Quale sarà il ruolo dei centri per l'impiego nell'applicazione della legge sul reddito di cittadinanza? Lo chiediamo al direttore del centro per l'impiego di Ragusa, dottor Giovanni Vindigni. I centri per l'impiego, così come sicuramente gli ascoltatori avranno sentito, dovrebbero fornire tre alternative di lavoro. La prima entro 100 km, la seconda entro 250 km e la terza in tutta Italia. Ma io dico, se ci fossero i posti di lavoro, che motivo c'è di avviare il reddito di cittadinanza in questo momento? Quindi la tempistica, a mio avviso, è sbagliata, non come strumento, perché io avrei prima dato la possibilità alle aziende di riprendersi, anche attraverso la flat tax, di cui se ne è parlato molto, quindi ad una riduzione importante del carico fiscale e anche i consumatori avrebbero dovuto avere una possibilità di riconquistare il potere d'acquisto, cosa che non è stata fatta. Quindi questo dispositivo è solamente finalizzato a dare un riscontro economico e basta, e non creare sviluppo come oggi l'Italia meriterebbe. Due considerazioni. La prima, che secondo me i fondi stanziati non vanno nelle tasche di chi veramente ne ha di bisogno. E tra le altre cose lo dice l'Istat, che per il 2018 individua 3 milioni e 300 mila lavoratori in nero in tutta Italia, di cui 1 milione e 3 li individua fra pensionati e dipendenti. Quindi dal 3 milione e 3, togliendo 1 milione e 3 che non avranno i requisiti del reddito di cittadinanza, resterebbero 2 milioni di lavoratori in nero che avranno i requisiti per percepire il reddito di cittadinanza. Quindi considerando che i 6 miliardi e mezzo di euro dovranno andare a finire a circa 4 milioni e 700 mila disoccupati, mi faccio il conto che circa il 40-45% saranno dei soldi destinati a chi non ha i requisiti, perché sono, come dice l'Istat, circa 2 milioni di lavoratori in nero, che quindi non avrebbero di bisogno del reddito di cittadinanza. L'altra considerazione è quella relativa ad una semplice divisione che io invito a fare tutti. Se i soldi stanziati sono 6 miliardi e mezzo, 6 miliardi e 7, diviso 4 milioni e 7, viene poco più di 1200 euro annui, diviso 12 mesi, sono circa 104-105 euro, se non ricordo male, quindi a 780 euro qualcuno poi mi dovrebbe spiegare come ci arriviamo. Detto questo e non volendo fare né polemica né politica, dico solo che purtroppo hanno cercato, individuato nei centri per l'impiego il caprio espiatorio e per questo sono un pochettino risentito, perché i centri per l'impiego, che tra le altre cose, sono diversi dai vecchi uffici di collocamento, i centri per l'impiego hanno l'obbligo di agevolare il lavoro e non di trovare il lavoro come qualcuno pensa. Una campagna pubblicitaria degli ultimi mesi hanno fatto sì che gli italiani fossero tutti contrari all'esistenza dei centri per l'impiego. Addirittura qualcuno ha detto che gli investimenti per i centri per l'impiego è stato il peggiore investimento di tutti i tempi da parte dei governi. Detto ciò, io vorrei dire solamente una cosa. Hanno trovato i caprio espiatori nei centri per l'impiego in maniera tale che se non funzionerà il dispositivo del reddito di cittadinanza, la colpa ancora una volta sarà dei centri per l'impiego. Un'altra cosa è che in questo momento la gente, i disoccupati, vengono nei centri per l'impiego e devo dire una cosa, non abbiamo nulla da dire perché non abbiamo nessuna circolare, nessuna linea guida, nessun riferimento, a parte quello che leggiamo noi stessi sui giornali, ma non abbiamo alcuna risposta. Noi sappiamo solamente che chi vuole accedere al reddito di cittadinanza dal 6 marzo in poi si deve arrecare presso un patronato, presso le poste e fare la richiesta. Dopodiché il ruolo nostro sarà sicuramente successivo e molto probabilmente solamente per un ruolo di controllo se il richiedente ha i requisiti o meno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.